Guardate bene la faccia di questo ragazzino perché è il ragazzino che ha sconfitto Neman a soli 16 anni Benvenuti amici di Matto Scacco in questo nuovo video Beh si stiamo parlando di un ragazzino di 2600 punti fide nel gioco standard Un ragazzo che probabilmente ci prometterà tantissimo Andiamo a curiosare, è diventato maestro fide nel 2017, maestro internazionale due anni dopo E qualche anno dopo ancora grande maestro nel 2022 Se andiamo a vedere la sua scalata del punteggio Possiamo vedere che il suo punteggio è assolutamente in ascesa E sarà destinato a salire Chi lo sa se entrerà nella top di migliori al mondo superando i 2700 punti Ci sono secondo me tutte le carte regola per riuscirci E quindi andiamo a vedere la partita giocata a Dubai contro Neman Ci troviamo in questa situazione Neman è dalle parti del nero Questo ragazzino ha per ora sconosciuto Ma credo che dopo questa vittoria farà parlare di sé con il bianco Qui secondo motore Secondo il motore Stockfish 15 Il nero che è Hans Neman ha un vantaggio di meno 9 Per i più appassionati e coloro che magari hanno più esperienza Sanno che un meno 9 significa partita vinta certa Già generalmente con un meno 2, meno 3 Hai almeno un pezzo in più Qui è meno 9 Qui non ci sono sbilanciamenti di materiali Se non che il bianco e il ragazzino ha un pedone in più Però quello che si può vedere è che Le entrate di donna sono molto paurose E se non fosse per questa donna difendente Seguirebbe il matto in due mosse Con donna H2 e donna F2 Mossa al nero Tocca Neman che gioca in partita Subito la coraggiosissima donna H2 Questa mossa fa passare il nero Da una posizione di meno 9 Quindi vittoria stracciata assoluta Ad una 0.00 Parità Incredibile il gioco degli scanchi Qual era la mossa corretta qui? La mossa corretta era G5 Ma questa era umanamente impossibile da vedere Perché? Perché la regina deve rimanere in qualche modo A guardia del punto F2 Quindi sei d'accordo con me che la regina deve scappare Su una di queste case Per esempio qui il motore mi consiglia F5 come casa migliore E a seguito di F5 Guarda un po' come sarebbe potuta continuare la continuazione Scacco di donna Il re si deve spostare Scacco di donna in H1 Unica casa disponibile è quella in E2 Re in E2 Scacco di donna supportata dall'alfiere Re D3 E adesso arriva ovviamente il colpo tattico Infi la tona e perdi la donna Gioco subito Donna H2 Scacco portando la posizione in parità Sembra che il nero abbia un attacco decisivo Perché hai tre pezzi che attaccano una regina molto vicina al re avversario Ma fatalmente qui non c'è nulla di mortale Il re scappa Scacco di donna Il re scappa Scacco di donna come abbiamo visto nella variante di prima Supportata dall'alfiere Il re scappa In attacco arriva anche il cavallo dando scacco Sembra quasi matto Perché la regina toglie qui L'alfiere toglie qui Il cavallo toglie qui La donna toglie qui Peccato che il re Ha più vite di un gatto Il re può scappare in C2 E allora A questo punto Gli scacchi interessanti sono finiti Qui non si può andare Perché Si perderebbe la donna Qui non può andare Perché perderesti l'alfiere in C3 gratis Perché il re può mangiare l'alfiere Insomma Sono finiti gli scacchi Quindi Neiman gioca Alfiere F6 Con l'idea di Portare la donna In batteria con l'alfiere Qui arriva La mossa Semplice ed efficace Difensiva Donna D2 Difende un po' le diagonali scure E offre ovviamente Il cambio delle donne Attenzione Che se Neiman Dovesse cambiare le donne La posizione si stravolgerebbe Perché Togliamo tutti i pezzi da scacchiera Togliamo i cavalli Togliamo gli alfieri Togliamo le regine Il bianco ha un pezzo in più Non solo Il bianco ha un pedone passato E il re Sembra abbastanza lontano Da questo pedone passato Quindi Il vantaggio del bianco Tolte i pezzi Sulla scacchiera È enorme Qui è facilissimo Spingere anche questi Inoltre c'è una maggioranza Di 4 contro 2 E Ora che il nero Spinga i suoi pedoni E vada a promozione La situazione è molto lunga Il bianco arriva molto prima Quindi Neiman deve assolutamente Evitare il cambio delle donne Poiché si andrebbe in un finale Di pezzi e pedoni Assolutamente sfavorevole Donna 1 Per cercare di non cambiare le donne E magari guadagnare qualcosa Con qualche scacco Il re che si sposta in b3 Questo re come dicevamo Ha più vita in un gatto E adesso Donna in b1 Scacco Il cavallo va in b2 Stoppiamo il motore Il cavallo è andato in b2 E ora Che si fa? Che si fa? Ci sono Diverse mosse da fare Quella che viene giocata È Il cavallo in D1 Il cavallo di 1 Con attacco triplo Qui sopra Sembra una mossa Buona no? Che c'è di male Eppure Questa mossa Non è vincente Ci sono tre attaccanti Ripetiamoci La regina che attacca Il cavallo che attacca E l'alfiere che attacca È difficile In partita Il bianco gioca Donna c2 La mossa migliore Del motore Qui che cosa succede? Ora bisogna capire Che cosa fare Catturare la regina O il cavallo Se catturo il cavallo E non è andata così In partita Sembra proprio Che io Me ne esca Con un pezzo in più E qui Niman Ha un pezzo in più È vero Ma è anche vero Che qui sia Un pedone Impossibile da fermare A meno che Tu non voglia Darmi un po' di materiale Ma io magari Non sono costretto A darti subito il materiale Intanto mi ripiglio il cavallo Poi vado A supportare Questo pedone E vado facilmente A promozione A seguito di tutto ciò Niman decide di Andare per il cambio Delle donne Non cambiare anche i cavalli Ma cavallo e 3 scacco Con l'idea di catturarmi Questo fortissimo Pedone avanzato Re b3 E finalmente Niman riesce Nell'intento La posizione è Di materiale pari Ma noi sappiamo Che gli scacchi Materiale pari Significa poco e nulla Bisogna capire Come sono disposti Questi pezzi Sulla scacchiera Ora L'obiettivo ovviamente Del bianco Sarà quello di sfruttare Questa maggioranza Sull'ala di donna Di 3 pedoni Contro 2 Cavallo c4 Alfiere in d8 L'alfiere Forse questa è la posizione migliore Per l'alfiere Cavallo in e5 Si minaccia ora Un attacco doppio Andiamo un po' Velocemente Che qui c'è un po' Di tecnica da fare Qui si può Subito spingere A4 B5 C6 Il giovane Grande maestro Decide di giocare subito C6 Andando così A cambiare i pedoni E giocando poi Questo 2 contro 1 Anziché 3 contro 2 Cattura Cattura L'alfiere si porta Questa casa A4 E ora La fine è vicina A5 Bloccando la situazione E poi questo cavallo Potrà fare qualche bella manovra Per andarsi A pappare Questo pedone Alfiere c7 Chiedendo un cambio Re c4 Cambio Cambio Arriviamo in un finale Di alfiere contro cavallo Peccato che questo cavallo È molto più forte Dell'alfiere Anche perché controlla La casa di promozione Del pedone Alfiere c7 Il cavallo si sposta Per cercare un posto migliore Dove andare G4 Necessaria E a questo punto Arriva il cavallo In e6 L'alfiere si sposta B5 Qui La partita è finita Però tu comunque Ci speri sempre Un pochettino Di giocarcela Di riuscire a Fare il colpo di scena Notare sempre Come Hans Niemann Continua sempre A guardare Il suo avversario Negli occhi Una cosa che io odio Penso che Devi giocare a scacchi Dei guardare sulla scacchiera Continuare a alzare gli occhi Guardare l'avversario Con segno di sfida È una roba proprio Che non riesco a concepire Secondo me non fa parte Di un gioco così pulito Come il gioco degli scacchi Continua ad alzare gli occhi Guardare negli occhi Come Quasi se volessi Cercare di leggere il pensiero Perché tu guardando Negli occhi L'avversario riesce a vedere in quale parte Della scacchiera Guarda Guarda No qui C'è poco da fare Oppure cercare di nervosirlo Non riesco a capire Veramente se lo fa apposta O se è un tic Che ha preso FB8 Cavallo di 8 Scacco E Re Cavallo ci sei Giocata immediatamente Questo cavallo ovviamente ora È fortissimo In combinazione col pedone Qui Niman decide di dare il pezzo Per avere un minimo di Controgioco E il controgioco arriva dopo F5 Qui bisogna capire bene Come giocarsela E qui Devo dire che Il ragazzino fa la mossa corretta Attenzione Che Questa cattura Farebbe sparire L'unico pedone Dall'altro lato del bianco Mentre qui Ottima mossa Da parte del bianco Che gioca G5 Ed è su questa mossa Che Niman abbandona G5 Fa sì che Il bianco Può dare Questo pedone Per poi cercare Di portare a promozione Il pedone In G5 Eliminando i vari difensori Che ci sono attorno E per esempio Come sarebbe potuta Continuare la partita Supponiamo che ora Il piano di Niman Sia quello di spingere Questi due pedoni Il piano del bianco Sarà quello di spingere Questo pedone Portare il re nero Nell'angolino Catturarmi Questo pedone Questo pedone Magari col cavallo E poi col re Andare a catturarmi questo Quindi A7 A7 Costringendo il re nero In B7 E4 Andandomi a pappare Questo pedone Se qui spingi Questo pedone Me lo pappo Col cavallo Quindi B4 Me lo pappo È vero che il cavallo Non difende più Questo pedone Ma chi se ne frega Direi che Arrivati a questo punto La situazione Sia piuttosto facile Da giocare Con vittoria Schiacciante Insomma abbiamo visto Un ragazzo Che probabilmente Farà parlare Molto di sé E da notare Come alla fine Della partita Appunto i giocatori Vanno a firmare I formulari Per dire chi ha vinto E poi consegnarli All'arbitro Solitamente Buona norma Mettere a posto I pezzi Anche se hai perso So che rodea tutti Non piace nessuno perdere Neiman è lì Che invece Lascia tutti i pezzi Che butta anche I formulari Sul tavolo Come se neanche Volesse Insomma Un po' Un po' Rivederli Sono state Delle mosse Non particolarmente Carine Poco sportive Se vogliamo Bene Spero che il video Ti sia piaciuto Noi ci vediamo Alla prossima Sempre qui su Manto Scacco Ciao